mo ci prendiamo? questo questo bar che senti prendo su bar scusa ma se io voglio tipo usare una di queste skin tipo questa design cazzo ne so e si io voglio usare tipo quella che cazzo una roba acquista auto vabbè si no la bomba fra ma vabbè ah vabbè vabbè questo lo si fa dopo vabbè eh 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 comunque guarda la targa è bellissima fammi vedere l'interno? bello vabbè bello ci sta ci sta preparando ma cazzo è bello devo chiedere devo aspettare rally altra mod mo fukurt eh si cazzo è vero perchè la Subaru è una macchina da real io me lo puoi scordare con gamè neanche ma fa gamè si suona per far capire da dove veniamo G G check point abbiamo preso G ciao frate G come le cambia le marce? alla paletta oppure le cambia al come cazzo si chi questo andrebbe giocato con il volante vabbè ci do a fare un video di ricatto va preso sei acqua va percentuale progressi però posso dire la mia macchina più figa della vostra no in amicizia ma me lo dovete succare grazie e buonasera in amicizia ma me lo dovete succare in amicizia ma me lo dovete succare la mia macchina più bella della vostra posso dire G ciao no 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 in amicizia ma me lo dovete succare oh sempre in amicizia ricordiamoci eh sempre con rispetto eleganza amicizia e sportiveggianza con sportività però me lo dovete succare cioè ripeto sempre con rispetto amicizia però me lo dovete succare tutti in ginocchio a succarmelo ci è ci è ci è ok noi ci facciamo sulla strada così la macchina è più a suo agio eh costa tanto il petrolio cazzo c'è boh 83% il morfo gordo vabbè non lo potete visionare ciao si salve salve sta il pubblico in delirio sta arrivando ciao si cazzo ma quanto mi danno? io sarò la macchia più bella di tutte solo perché quanto mi danno? 7000 è buono gira la ruota quanto è che mi danno mo? ehi se mi danno una macchina ma non ce l'ho già ma non ce l'ho già scusa no no ma vabbè mi ricordo da una cosa ma fa una tagaretta vediamo se riesco a a fare una bella derapata oh derapata freno a mano beh ci sta questa è una zona derapata e tu magari lo vedi allora questa è anche la che abbiamo presso noi e questa è anche la che abbiamo vinto vabbè poi questa ti dedichiamo un video vabbè stighazzi ma usiamo questa perché più facciamo più bella figura perché più bella facciamo vedere a questi chi siamo ma lui che cazzo sei? ma di chi cazzo sei? oh sta uno con una livrea almeno non sono oh questa ha messo pure la freccia hai visto che culo no no che caso sbagliata vabbè si da sbagliata premuto la y che sei la prima volta fammi fare un po' di prima persona sei ma se ho i sorpassi in maniera elegante perchè si perchè più pello e più migliore più sportive già sei siamo tre ehm checkpoint dai oh fino ad allora tipo come per pc non elimineranno ehm i giochi i giochi fisici perchè i giochi per pc ormai non esistono più fisici cioè sono solo in digitale fino ad allora quando su console non faranno la stessa cosa io li compro fisici così li rivendo lo gioco lo finisco no perchè perchè pure l'amico mi presi il gioco poi te lo ridò poi quando lo finisco poi te lo ridò cioè poi si che quando c'è tipo ehm capiterà che dovrò andare a vivere da solo mi mi dovrò portare una caterba di perché mi do fare una valigia solo per i giochi e vabbè quelli sono dettagli però questi gatti insomma cioè dettagli ehm ma io che sono la prima ma me lo presco la data ce l'ho appena di salonda boh perchè vabbè cioè ehm 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 finchè me lo leggi il gioco sti cazzi finchè mi da problemi ehm si vende l'exbox e si compara la serie X la fan goal intanto abbiamo vinto ehm in amicizia ma me lo dovete succare in amicizia ma me lo dovete succare ole sti cazzo ma contami i pochi ehm beh ottimo ottimo vabbè dei fan sti cazzo neanche che cazzo ma che 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 Grazie a tutti.